Ciao amici di Accorde Chitarre, sono Simone Gian Lorenzi e sono qua oggi per parlarvi dello stile di un grandissimo chitarrista che è Richie Blackmore, storico chitarrista dei Deep Purple e dei Rainbow. È un chitarrista che certo non ha bisogno di presentazioni ma che invece ha bisogno di un'adeguata e attenta analisi. Per cui ho selezionato per voi tre delle frasi tipiche di Blackmore che ci serviranno per parlare di alcuni aspetti del suo stile. Andiamo subito con il primo esempio. In questo fraseggio Blackmore utilizza una scala di Do d'orico combinata con la scala blues di Do. La scala di Do d'orico in posizione stretta è la seguente Mentre la scala blues è Il fraseggio nasce proprio dalla fusione di questi due elementi Una caratteristica essenziale dello stile di Blackmore, come ampiamente spiegato anche su chitarre di questo mese, è l'utilizzo del plettro. Il plettro infatti deve essere inserito molto all'interno delle corde, deve quasi faticare a uscire dalla corda appena plettrata in modo da avere un attacco molto deciso e marcato su ogni singola nota. Nel secondo esempio Blackmore utilizza le triadi di Re minore in questa posizione Sol minore Do maggiore Approcciando tutte le prime note di queste posizioni che abbiamo appena visto con un bending di un tono Do maggiore 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 Anche in questo caso, come negli altri due esempi, è importante avere una pennata molto decisa e con il plettro ben inserito all'interno delle corde. Allora, spero che questa lezione vi sia stata utile e che abbiate appreso qualche piccolo segreto e caratteristica dello stile di Black. Comunque ci vediamo alla prossima.